ciao a tutti oggi andiamo a vedere come fare per modificare un tema di wordpress andando ad agire non sul css come abbiamo già visto in un altro tutorial ma andando ad agire sull'html del sito in questo caso noi vogliamo modificare questo footer aggiungendoci due link qui questo si può fare andando a modificare l'html del sito e non il css vediamo come fare innanzitutto bisogna creare un child theme e se non sapete come fare vi rimando un tutorial precedente che ho già fatto quindi creare un child theme di 2012 mi pare è il tema di the full di wordpress una volta che avete creato un child theme andiamo a modificare questo file allora dobbiamo andare sulla bacheca e andare su aspetto temi editor ok siamo sull'editor del tema 2012 vedete child sto utilizzando quello vedete che qui oltre ai fogli di stile che sono stati modificati in questo caso creando un child theme vedete che è stato modificato anche footer php questo lo trovate qui se andiamo sul 2012 il tema siamo genitore di questo il tema originale che non è stato toccato vedrete che troverete footer php perché io vado su footer php a modificarlo perché se io faccio torno qua questa pagina utilizzando questo plugin che si chiama fire bug scaricatelo e per firefox possiamo andare a vedere le anteprime delle modifiche che noi facciamo quindi visto che io non sono un programmatore non sono un grande esperto utilizzo questo andate qua cliccate andando sul sito vi fa vedere tutte le varie sezioni se io voglio modificare qui clicco vedete questa è la parte che noi vogliamo modificare se vado su modifica mi rendo conto che la parte che c'è ora è questa io voglio ora modificare questa parte quindi voglio aggiungerci questa stringa di codici html la copio vado qui la incollo e vedo le modifiche come saranno nella realtà chiaramente se ora io aggiungo la pagina queste spariranno perché questo qua è solo un anteprima devo andare a modificare questo come faccio devo creare un nuovo file php quindi vado file new php html php perché perché wordpress è costruito in php ora io torno su sulla bacheca vado questo lo chiudiamo vado su aspetto editor andiamo sul tema originale 2012 selezioniamo andiamo su piedi pagina footer php copiamo tutto questo command c vado su coda ho creato un nuovo file php faccio command v ok quindi in questo caso poi vado a cancellare tutta la parte che non voglio quindi non mi interessa da qua a qua la cancello qui vado ad aggiungerci ora visualizzando il sito questa parte quindi vado su coda potete vedere vado su modifica devo aggiungere site info devo aggiungere soltanto questa parte che ho già scritto command c avete solo questa parte è soltanto una scritta non c'è nessun collegamento quindi vado su coda questa parte faccio command v poi devo aggiungerci due link due link aggiungo quest'altra stringa di codice command c vado qui aggiungo command v una volta fatto questo faccio file salva come lo salviamo salveremo come footer punto php lo salvo sulla scrivania ok ora l'ho salvato ora lo dobbiamo caricare sul nostro sito tramite il client ftp quindi facciamo così apriamo il nostro client ftp andiamo su sul ftp del nostro sito che è questo il sito del parco avventura è un sito sottosito quindi vado su parco avventura bisogna andare su wordpress content questo vale per tutti i temi che avete installato di wordpress themes 2012 child il tema child che avete creato footer php ora qui c'è già io lo posso cancellare delete ok io ora ho modificato solo il file style css solo i fogli di stile poi io vado ad aggiungerci footer php qua ok completato ora ritorniamo sul nostro sito come potete vedere qui ora c'è solo questa scritta sui crediti se io vado ad aggiornare la pagina vediamo che sono state aggiungi e sono state aggiunte scusate all right reserved e contatti contattaci e se io clicco qua attorno alla home page del sito principale e quindi abbiamo modificato il il footer tramite un'aggiunta di questo file php infatti se noi andiamo su editor ora e andiamo su 2012 child piedi pagina vedete footer php noi ci clicchiamo sopra e vediamo che vedete credit e poi c'è questa parte che sono i due link questo e questo ok spero che questo video vi sia stato utile grazie di tutto e alla prossima ciao